Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono anche a portarvi la play review di Gonzalo Iguain versione record breaker giocatore che ottene questa carta per aver superato il record di Gunnar Nordahl attivo diciamo per più di 60 anni segnando 36 gol in 35 partite e diciamo riceve questa carta, 91 di overall, quinta versione per lui si aspetta una testa cura Tots, sicuramente devastante e si presenta appunto in questa versione che ha statistiche molto molto elevate come già si vede sulla carta e come poi saranno in game e che effettivamente dimostra molto ma molto di più forse di quanto già non sembri questo perché? Andiamo a vedere perché diciamo è un giocatore completo un giocatore veloce, che sa aderblare, che è anche fisico sa passare, anche se ovviamente deve fare la prima punta unica e ovviamente sa tirare, ma questo era ovvio per quanto riguarda la velocità diciamo che come ho detto un giocatore veloce rimane sempre sa sempre dove deve stare innanzitutto perché il posizionamento di 99 è ottimo e quindi è un pro e ma scatta sempre al momento giusto e facendolo riesce aiutato anche appunto dalla grande velocità che in realtà non è neanche tanto sulla carta perché è un 86 da 1-2 metri in corsa agli avversari e soprattutto quando si allunga la palla diventa praticamente imprendibile un giocatore Higuain che comunque non ha diciamo sì ha un 90 di dribbling ma ha 3 stelle skill quindi comunque se si va a vedere per esempio l'agilità di 80 si pensa che non sia poi un giocatore così bravo a dribblare invece no perché lui ha aiutato appunto dal controllo palla e dal dribbling puro che sono ottimi dalla forza fisica quelle 3 stelle skill e quella poca agilità non si sentono per niente infatti per me il dribbling è un pro riesce a superare praticamente chi vuole in qualsiasi modo e anche sul dribbling diciamo ci siamo perché come la velocità sì forse c'è di meglio ma una prima punta che ha già velocità e dribbling così che per me è una delle prime punte migliori del gioco una prima punta che ovviamente sa il fatto suo anche davanti alla porta così da vicino così come da fuori il tiro generale come ho detto è di 95 ma abbiamo di 99 in posizionamento e finalizzazione altri valori ottimi in potenza tiro in effetto in colpo di testa in long shot davvero segna in qualsiasi modo mi ha segnato anche una punizione da circa 35 metri come vedrete basta dare palla a lui e niente lui segna semplicemente non c'è tanto da dire diciamo per quanto riguarda invece le altre caratteristiche importanti oltre alla forza fisica che ho già citato ci sarebbe colpo di testa che è molto molto alto come valore insieme ad anche un ottimo valore di salto di testa non è male come ho detto e per quanto riguarda i passaggi si i valori sono buoni ma al massimo si può fare uno scambio con le ali uno due col trequartista con la mezzala come vedrete io lo so da un 4-3-3-4 ma niente di particolarmente importante diciamo i valori importanti li ho già citati e il passaggio è solamente un qualcosa in più andiamo quindi a riepllocare pro e contro di Gonzalo Iguain versione record breaker pro ho inserito velocità, dribbling, tiro, forza fisica e posizionamento mentre tra e contro non c'è ovviamente niente il voto finale che gli do è un 10 è un 10 meritatissimo una carta che comunque vi consiglio di comprare ma non adesso ma ai tots ai tots perché uscirà una sua versione probabilmente 96 ma se si segue il trend di quello che è stato per altri giocatori forse anche qualcosa in più con 99 di tiro 90 di velocità insomma questa diventerà una carta scarsa rispetto a quella che sarà la tots quindi oltre a immaginare quanto potrà essere devastante quella e posso immaginare come questa scenderà vertiginosamente di prezzo infatti se ora costa sui 250.000 crediti forse lì arriverà a 100.000 in meno e vi consiglio di prenderla in quel periodo ringraziando Stefano l'intente del nostro gruppo al quale vi invito a iscrivervi perché mi ha prestato Iguain e il suo account ovviamente vi rimando a un prossimo video spero che questo vi sia piaciuto alla prossima qui era Alfred ciao a tutti